Hi everybody! Benvenuti all'undicesima lezione del mio corso di inglese intermedio di livello B1. Prima di presentarvi gli argomenti della lezione, vi invito a iscrivervi al mio canale per essere aggiornati sui nuovi contenuti e a lasciare un like al video. Bene, siete pronti? Are you ready? Cominciamo! Let's start! Per il vocabolario impareremo espressioni tipiche relativi all'istruzione. Per la parte grammaticale studieremo i tempi verbali dell'infinito e del gerundio. Continueremo la nostra lezione con un'attività di listening e una di reading and comprehension. Per imparare le espressioni tipiche relative all'istruzione, cominciamo con un esercizio nel quale dovrete associare alle immagini le espressioni corrispondenti che trovate nel box blu. Come sapete, mettete in pausa il video, svolgete l'esercizio e poi lo correggiamo insieme. Ready? Ripassare per un esame. Ripetiamo Poi abbiamo Get into university Entrare all'università Do a degree Do a degree Prendere una laurea Pass an exam Pass an exam Superare un esame Fail an exam Fail an exam Fallire un esame, quindi non passare Qui la stessa identica cosa Prendetevi il tempo per svolgere l'esercizio Ready? Take notes Take notes Prendere appunti Hand in an essay Hand in an essay Consegnare un lavoro scritto Quindi un tema o un saggio Graduate in math Graduate in math Laurearsi in matematica Ma graduate significa anche diplomarsi, quindi può avere un doppio significato Make progress Make progress Fare progressi E infine Get good marks Get good marks Ottenere buoni voti Come è andato questo esercizio? Great job! Qui, invece, dovrete collegare le frasi che trovate nella parte sinistra della slide Con le definizioni che trovate nella parte destra Mettete in pausa il video Prendetevi il tempo di leggere E poi lo correggiamo insieme Correggiamo Do a degree in math Prendere una laurea in matematica Quindi Study on a three or four year course at university Studiare un corso di tre o quattro anni all'università Number two Revise for an exam Ripassare per un esame Corrisponde alla definizione Review class material for an exam Ovvero ripassare il materiale della classe per un esame Number three Pass an exam Superare un esame Quindi corrisponde alla definizione Complete an exam correctly Completare correttamente un esame Number four Get into university Entrare all'università Quindi possiamo collegarlo alla definizione Get a place at university Ottenere un posto all'università Number five Fail an exam Non superare un esame E infatti corrisponde a non superare un esame Fate la stessa cosa in questa slide Quindi prendetevi qualche minuto per leggere il vocabolario e le definizioni Correggiamo Hand in an essay Consegnare un saggio Quindi Lettera E Give a finished essay to a teacher Consegnare un saggio Un lavoro scritto finito a un insegnante Number two Take notes Take notes Significa prendere appunti E quindi la definizione è Write down main ideas Scrivere le idee principali Number three Get good marks Ottenere buoni voti E corrisponde alla definizione Receive a high mark in an exam or for an essay Ricevere un voto alto in un esame o per un saggio Number four Graduate in law Laurearsi in giurisprudenza Get a degree Ottenere una laurea E infine Make progress Fare progressi Corrisponde alla lettera di Improve Migliorare Migliorare Great Andiamo avanti Concludiamo questa prima parte dedicata al lessico con un esercizio nel quale dovrete scegliere l'opzione corretta tra le due parole in rosso che trovate nel testo Mettete in pausa il video Svolgete l'esercizio e poi lo correggiamo insieme Correggiamo My sister Was always the ambitious one in the family And she really wanted to get into university Her dream was to do a degree in law Because she wanted to become a lawyer She studied hard at school And managed to get a place at a top university Trinity College University was hard But she enjoyed it She had to study a lot And always took notes during lectures She never failed an exam Not once She only handed in an essay late once Because she broke her arm And was in a hospital Thanks to all her hard work She got good marks Made excellent progress And graduated last year We're all very proud of her Se avete scelto tutte le parole corrette Vuol dire che avete assimilato bene le espressioni studiate Good job Ottimo lavoro Let's continue Abbiamo concluso la parte relativa al vocabolario Passiamo a quella grammaticale Come abbiamo visto nel sommario Il primo argomento di grammatica che vedremo è il tempo infinito Usiamo l'infinito dopo gli aggettivi Per esempio I'm really happy to be here Sono davvero felice di essere qui In questo caso dopo l'aggettivo happy mettiamo il verbo all'infinito Oppure per esprimere un motivo, uno scopo I'm going to the shop to buy milk Vado al negozio a comprare il latte Usiamo l'infinito dopo alcuni verbi come Agree Begin Choose Decide Want Would like Promise Refuse Expect Need Plan Learn Offer Or hope Per esempio Si è rifiutata di parlare del problema Vediamo adesso il tempo gerundio Lo usiamo dopo le preposizioni Per esempio Abbiamo parlato di trasferirci all'estero In questo caso dopo la preposizione about Mettiamo il verbo al gerundio Oppure dopo i verbi frasali I'm looking forward to seeing you Non vedo l'ora di vederti Quindi dopo il verbo frasale Looking forward to Mettiamo il verbo al gerundio Seeing Usiamo il gerundio come soggetto di una frase Per esempio Eating fruit and vegetables every day is good for your health Mangiare frutta e verdura tutti i giorni fa bene alla salute Oppure dopo alcuni verbi come Avoid Describe Discuss Enjoy Finish Not mind Stop Keep Imagine And miss Facciamo un esempio Mi manca mangiare sushi fresco come quando vivevo in Giappone All clear? Soffermiamoci adesso su alcune peculiarità di questi due tempi verbali Dopo alcuni verbi è possibile utilizzare sia il gerundio che l'infinito senza che il significato cambi I verbi più comuni sono Begin Start Continue Prefer Like Love And hate Facciamo un esempio Come potete osservare possiamo utilizzare entrambi i tempi verbali senza che il significato cambi Infine prestiamo attenzione alla forma negativa di questi verbi Per formare frasi negative in entrambe le forme si usa not prima del verbo Jack si è scusato per non essere venuto alla riunione For not coming to the meeting We decided not to go to the party Abbiamo deciso di non andare alla festa Not to go Adesso mettiamo in pratica quanto abbiamo visto finora In questa slide dovrete scegliere la forma corretta del verbo tra le due opzioni date in rosso Quindi i verbi all'infinito o al gerundio Se ne avete ancora bisogno datene un'altra occhiata alle regole Correggiamo Number one They want to leave Vogliono andarsene Number two I enjoy going to the beach Mi piace andare in spiaggia Number three Would you like to come to dinner on Saturday? Ti piacerebbe venire a cena sabato? Number four My parents have offered to help us I miei genitori si sono offerti di aiutarci I'm sad to leave this beautiful place Sono triste di lasciare questo bellissimo posto Fate la stessa cosa in questa slide Correggiamo Number six Running is a hobby of mine Correre è un mio hobby Number seven Do you mind closing the window? Lei dispiace chiudere la finestra? Number eight Is your brother still interested in studying Japanese? Tu fratello è ancora interessato a studiare il giapponese? Number nine I really love To read Or I really love reading detective novels Mi piace molto leggere i romanzi polizieschi Number ten Did he agree to take you to the airport? Ha accettato di accompagnarti all'aeroporto? Qui invece dovete scegliere quattro di questi sette argomenti E scrivere qualcosa che è vero per voi Usando le forme verbali dell'infinito e del gerundio Leggiamo insieme gli argomenti Something you are planning to do in the summer Quindi qualcosa che avete intenzione di fare in estate Number two A country you'd like to visit in the future Un paese che vorreste visitare in futuro Number three Somebody you wouldn't like to go on a holiday with Una persona con cui non vorresti andare in vacanza Four A job you'd love to do Un lavoro che ti piacerebbe fare Number five Somebody you find very easy to talk to Una persona con cui trovi sia facile parlare Number six Something you're afraid of doing Qualcosa che hai paura di fare And number seven Something you enjoy doing on Sunday mornings Qualcosa che ti piace fare la domenica mattina Per esempio io scelgo il topic L'argomento numero uno E scrivo Quindi ricapitoliamo Something you are planning to do in the summer E scrivo I'm planning to go to the beach And read lots of books this summer Scrivete le vostre frasi nei commenti E io vi darò un feedback Abbiamo concluso la parte relativa alla grammatica Adesso passiamo all'ascolto Adesso ascolteremo una conversazione tra due studenti Il vostro obiettivo è quello di comprendere il senso generale del brano E rispondere alla domanda Who is the better student? Aprite bene le orecchie Hi Tom How are you today? Hi Ashley I'm fine thanks How about you? I'm okay But I'm really stressed about all the exams that are coming up Did you finish the homework for our history class? Yes I did It was quite interesting What did you think about it? I found it a bit difficult But I learned a lot What was your favourite bit? I like the part about ancient Rome It's amazing how they built such big structures without modern technology Yes that was really impressive By the way I need to revise for our maths exam next week I don't want to fail an exam again We can study together if you want That sounds great I also need to check my notes from our last lecture I missed some points Did you take notes? Yes I always do We can compare notes Did you hand in the essay for our English class? Yes I handed it in yesterday Have you finished yours? No But I plan to do it this afternoon Good luck with that Are you going to the study group at 4pm? Yeah You? Yes See you there Quindi Who is the better student? Tom is the better student Passiamo ad un ascolto più approfondito Riascolteremo la conversazione per verificare se le frasi che trovate in questa tabella sono vere o false Quelle false dovete correggerle Prima di riascoltare il brano prendetevi qualche secondo per leggere le frasi Cominciamo Hi Tom, how are you today? Hi Ashley, I'm fine, thanks How about you? I'm okay but I'm really stressed about all the exams that are coming up Did you finish the homework for our history class? Yes, I did It was quite interesting What did you think about it? I found it a bit difficult but I learned a lot What was your favourite bit? I like the part about ancient Rome It's amazing how they built such big structures without modern technology Yes, that was really impressive By the way, I need to revise for our maths exam next week I don't want to fail an exam again We can study together if you want That sounds great I also need to check my notes from our last lecture I missed some points Did you take notes? Yes, I always do We can compare notes Did you hand in the essay for our English class? Yes, I handed it in yesterday Have you finished yours? No But I plan to do it this afternoon Good luck with that Are you going to the study group at 4pm? Yeah, you? Yes See you there Bene, correggiamo Number 1 Ashley is stressed about a problem with her car Is that true or false? Yes, that's false Why? She's stressed about exams So Ashley is stressed about her exams Let's listen I'm okay But I'm really stressed about all the exams that are coming up Number 2 Tom enjoyed doing the history homework Is it true or false? Yes, it's true Yes, it's true I like the part about ancient Rome It's amazing how they built such big structures without modern technology Number 3 Ashley has already failed an exam Is that true or false? True Let's listen I don't want to fail an exam again I don't want to fail an exam again Number 4 Tom doesn't usually take notes during the lectures True or false? Yes, that's false Tom always takes notes during lectures Did you take notes? Yes, I always do Number 5 Ashley has handed in the essay Is it true or false? It's true Did you hand in the essay for our English class? Yes, I handed it in yesterday And finally, number 6 They are meeting in the afternoon True Are you going to the study group at 4pm? Yeah, you? Yes, see you there Bene Se siete riusciti a individuare le frasi corrette e a correggere quelle sbagliate vuol dire che state migliorando la vostra abilità nell'ascolto Keep working Great job Abbiamo concluso il listening Passiamo alla lettura e alla comprensione di un brano Reading and comprehension In questa prima fase Dopo aver letto il brano che si intitola The best school in the world Dovrete rispondere a questa domanda Which country do you think has the best school system in the world? L'obiettivo in questa fase è quello di comprendere il senso generale del testo Quindi adesso vi mostrerò il testo Alla fine della lettura dovrete semplicemente rispondere a questa domanda Cominciamo a leggere Questa è la prima parte del brano Schools in Finland are considered some of the best in the world for several reasons First, Finnish teachers are highly trained and respected They must have a master's degree and are selected from the top 10% graduates This means that students receive high quality education Second, the Finnish education system focuses on equality Every school offers free meals, healthcare and help from counselors School facilities like gym, playgrounds and laboratories Are all very modern and well equipped Private schools do not exist And all students, no matter their social background or financial situation Can enjoy the same high standards Third, Finnish schools do not have many big tests Instead, teachers watch and help students every day And decide their grades based on their daily work This makes school less stressful and more fun As students don't need to worry too much about getting good grades They can make progress at their own pace Finally, students in Finland have a good balance between school and free time They have shorter school days and hardly any homework In fact, students do homework for around 20 minutes a day This gives them more time to play, rest and spend time with family So, which country do you think has the best school system in the world? Finland, very good Adesso andiamo più nel dettaglio Dovrete rispondere a sei domande relative al brano Leggiamole insieme Number one What qualifications do Finnish teachers need to have? Number two How does the Finnish education system promote equality among students? Number three Why do Finnish schools have fewer tests compared to other countries? Number four What is the typical amount of homework Finnish students have each day? Number five What is the balance? Like between school and free time for students in Finland? Number six Find a sentence in the text That means take the time they need Adesso rileggete il testo attentamente E poi prendetevi qualche minuto per rispondere alle domande Questa è la prima parte del testo Questa è la seconda parte del testo E adesso possiamo rispondere alle domande Quali qualifiche devono avere gli insegnanti finlandesi? They must have a master's degree Devono essere in possesso di un master Andiamo a vedere They must have a master's degree And are selected from the top 10% of graduates Number two How does the Finnish education system promote equality among students? In che modo il sistema educativo finlandese promuove l'uguaglianza tra gli studenti? Every school offers free meals, healthcare and help from counselors Ogni scuola offre pasti gratuiti, assistenza sanitaria e aiuto da parte di consulenti Andiamolo a vedere nel testo Every school offers free meals, healthcare and help from counselors Number three Why do Finnish schools have fewer tests compared to other countries? Perché le scuole finlandesi hanno meno esami rispetto ad altri paesi? The answer is Teachers watch and help students every day And decide their grades based on daily work Quindi gli insegnanti osservano e aiutano gli studenti ogni giorno E decidono i loro voti in base al lavoro quotidiano Ecco la risposta Andiamo avanti Number four What is the typical amount of homework Finnish students have every day? Qual è la quantità tipica di compiti a casa che gli studenti finlandesi svolgono ogni giorno? Finnish students do homework for around 20 minutes a day Gli studenti finlandesi fanno i compiti per circa 20 minuti al giorno Andiamolo a vedere nel testo Ed eccolo qua In fact, students do homework for around 20 minutes a day Number five What is the balance between school and free time for students in Finland? Qual è l'equilibrio tra scuola e tempo libero per gli studenti finlandesi? Finnish students have shorter school days and more time to play Rest and spend time with family Gli studenti finlandesi hanno giornate scolastiche più brevi E più tempo per giocare, riposare e stare in famiglia Andiamolo a vedere nel testo Eccolo qua This gives them more time to play, rest and spend time with family Number six Find a sentence in the text that means take the time they need Trovate una frase nel testo che significhi prendersi il tempo di cui hanno bisogno At their own pace Con i loro tempi Andiamolo a vedere nel testo They can make progress at their own pace Abbiamo concluso l'undicesima lezione di questo corso d'inglese B1 Continuate ad esercitarvi Keep working and see you next time Ci vediamo alla prossima Ciao